Noi come al solito abbiamo dimostrato anche oggi che non possiamo ottenere il massimo utile con il minimo sforzo, abbiamo giocato sotto ritmo nel primo tempo, il Bari ha fatto meglio di noi, è andato in vantaggio meritatamente, noi non abbiamo creato tanto, il secondo tempo invece abbiamo cambiato registro, mi lascia ben sperare perché la squadra secondo me sta bene, però anche oggi è dimostrato che se abbassiamo la guardia e il ritmo qualche problema ce l'abbiamo. A proposito di squadra che sta bene abbiamo visto molti elementi che hanno giocato tantissime partite in questa stagione ma che continuano a dimostrare una forma invidiabile, mi viene in mente Nocerino, mi viene in mente però anche Cesare Bovo che ha realizzato il suo secondo gol consecutivo al Barbera. Questa è una squadra serie quindi sotto questo punto di vista sono tranquillo perché so che il lavoro è stato fatto, fermo restando che in questo periodo ma sempre sei sempre la testa che manda le gambe.